Una buona notizia che sicuramente può rincuorare tante donne che ancora sognano di poter avere un figlio. Una donna a 54 anni è riuscita non solo a restare incinta ma soprattutto a mettere alla luce una spredita bambina. Certo, hai detto proprio bene. Due sono i successi. Quello di essere rimasta incinta e quello di aver portato a termine la gravidanza partorendo una bambina splendida di 3 kg. Sì, anche perché i problemi sono duplici. Prima bisogna ottenere la gravidanza, dopodiché a 54 anni bisogna portarla avanti in un certo modo per poter arrivare alla fine della gravidanza. Infatti la signora ha dato alla luce una bambina splendida di 3 kg circa che sta benissimo e la signora è già a casa avendo partorito 4-5 giorni fa. Dottor Ciarocchi, come è stato possibile tutto questo? Chiaramente dobbiamo dire grazie alla fecondazione assistita perché è impensabile che spontaneamente possa avvenire una cosa di genere oggigiorno. Però la scienza ce lo consente, le leggi dello Stato italiano ce lo consentono, per cui quando noi possiamo aiutare una donna così desiderosa di prole ci adoperiamo in tutto e per tutto. La signora è stata in cura per circa due anni prima di ottenere questo successo ed è stata veramente una donna splendida, tenace, piena di vita, che ha creduto fermamente in questa cosa. Purtroppo prima aveva perso molto tempo con delle situazioni sbagliate che non avevano centrato il problema. Noi fortunatamente o per capacità di qualcuno siamo riusciti a centrare il problema e abbiamo ottenuto questa splendida cosa. Il centro di procreazione assistita del Mazzini di Teramo tuttavia adesso non funziona più? Purtroppo non funziona. Voi ricorderete tutti perché sta sulla cronaca cittadina di 4-5 anni fa, addirittura io sono stato additato come un bandito per aver aiutato 20 coppie ad avere una gravidanza. Purtroppo non si risolve il problema. La ASL è veramente molto disponibile nei confronti di questa tecnica, anche perché come tutti sanno dai mass media, dai giornali, rientra nei LEA, nei nuovi LEA, per cui dovrebbe essere a disposizione di tutti i cittadini e la ASL dovrebbe offrire questa pratica. Però la regione si barrica dietro al fatto che per il quotiente di popolazione in Abruzzo basta un solo centro pubblico di secondo e terzo livello e attualmente in Abruzzo abbiamo solo il centro di Ortonia. Si parla di denatalità, si parla di nascita zero rispetto alle morti, per quale motivo no?